Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie, un canale dove parlo di scrittura, perché io voglio fare lo scrittore. Se non l'avete mai fatto andate sul mio blog, il mio sito, che è www.lemiescorie.it, dove troverete articoli che parlano di scrittura e anche piccole storie originali, scritte ormai anni fa. E oggi voglio parlare del romanzo di Stephen King, Cujo, o Cuyo, come a dirsi voglia, non lo so. Io mentre leggevo lo nominavo Cujo. Questo perché? Perché, diciamo, Stephen King, ho fatto da poco un articolo proprio sul suo manuale, che è un writing, quindi un manuale di scrittura dove lui consiglia alcune cose sulla scrittura. Se ve lo siete perso andatelo a recuperare sul canale. E, diciamo, porto appunto questo libro perché, per far un po' capire come in realtà, non è detto che, proprio perché si è scrittori di best seller e di romanzi che appunto vendono moltissimo, o comunque un autore molto prolifico, quindi che scrive molto, questo non significa che appunto lo stesso scriva bene. E qui, appunto, già immagino chi è che ama alla follia Stephen King che lancia sassi contro il video, perché ho appena affermato che Stephen King non scrive bene. Allora, usciamo un attimo dalla solida retorica appunto del fatto che gli scrittori conosciuti a livello mondiale appunto siano in grado di scrivere in modo oggettivamente buono. Cosa intendo dire con questo? E qui mi appoggio a un altro libro che è un saggio, che è La scienza dello storytelling. Questo pure è un saggio che porterò sul canale perché veramente ha aperto un mondo sul fatto dello storytelling, o meglio, più che altro spiega in modo scientifico appunto come il nostro cervello capta le informazioni leggendo un romanzo o comunque leggendo una storia. Anche Stephen King nel suo manuale porta praticamente alcune regole che poi lui bellamente invece manda a puttane, nel senso che predica bene e razzola male. Quindi, allora, leggendo il libro, poi per sua stessa ammissione, dopo lo leggiamo proprio dal pezzo di home writing, lui l'ha scritto mentre era ubriaco. Cioè lui praticamente non era in se stesso, c'è poco da fare, lo dice lui chiaramente anche all'interno del suo manuale di scrittura. Ed ora ho capito perché, o meglio, l'idea di base del romanzo è originale e una cosa che devo riconoscere a Stephen King è quello di riuscire a tirare fuori da cose apparentemente normali, diciamo, il terrore. Quindi l'orrore, lui riesce a descrivere bene l'orrore anche in eventi che sembrerebbero normali. Quindi Cujo parla di un cane che ha la rabbia, che è affetto da rabbia e che quindi, diciamo, i protagonisti sono una donna e un bambino che rimangono intrappolati in un'auto e devono trovare il modo di non farsi sbranare, insomma, dal cane. Quindi, diciamo, l'idea apparentemente sembrerebbe semplice e banale, però ovviamente lui riesce a renderla viva, viva. E le descrizioni, insomma, che fa ovviamente danno quel terrore, anche se poi all'interno lui inserisce sempre qualcosa di paranormale. Adesso non voglio spoilerare proprio tutto il romanzo e quindi magari chi l'ha letto già capisce di che cosa sto parlando. Chi non l'ha letto lo invito a leggerlo e poi magari a rivedere il video, comunque a riparlarne. Perché, appunto, il fatto è che il libro è pieno di punti di vista, quindi non c'è un vero e chiaro punto di vista all'interno del romanzo. Sono sempre punti di vista diversi di personaggi che rimbalzano continuamente da un capitolo all'altro o da una scena all'altro, cosa che rende difficoltoso l'immergersi nella storia, perché se tu a priori magari sai già chi è che sta raccontando quella scena, non ti devi soffermare, e qui ecco il cervello, che appunto si deve soffermare a captare quell'informazione e capire di chi si sta parlando. È vero che lui utilizza trucchetti all'interno per dire, appunto, tramite il nome stesso del personaggio, perché comunque è tutto in terza persona, chi è che sta svolgendo quelle azioni e chi è che sta parlando di quella scena, in quella scena. Però si perde molto tempo, molto tempo nel fare questo, quindi nell'acquisire già nelle prime righe la prima informazione che ti serve, che è utile appunto a capire chi è che sta parlando, quindi per immergerti nel personaggio. Altra cosa, usa uno dei trucchetti, diciamo, per far leva sulla curiosità dello scrittore, del lettore, scusa, cioè quello di appunto dare informazioni da un punto di vista e quindi mette a conoscenza il lettore di quel dato, diciamo, evento, cosa che magari nei capitoli successivi l'altro punto di vista non conosce. Quindi tu, lettore, tra virgolette, ti senti quasi intelligente o comunque ti senti che già conosci quell'informazione e aspetti che il personaggio X la capisca o la scopra. Questo, diciamo, è un meccanismo che può essere utilizzato nelle storie, nei romanzi in genere. Il problema è che qui viene utilizzato sempre, spesso. Quindi se nella prima parte questa cosa funziona, perché appunto tu non conosci la storia, non conosci gli eventi, non conosci quello che succede, i vari punti di vista vanno a formare tutta la trama e quindi l'intreccio di questi vari punti di vista ti permette poi, bene o male, di arrivare al punto, quindi, con tutti i personaggi che arrivano a quel punto. Il problema è che quando poi dopo questa cosa viene reiterata il lettore si stanca e io l'ho provato sulla pelle, cioè dopo, diciamo, la metà del romanzo non avevo più voglia di leggerlo, cioè ho dovuto insistere perché comunque, sì, spinto dalla curiosità di capire che cosa c'era dopo nella storia, come finiva, come si evolveva ovviamente, però molti capitoli erano prolissi, erano comunque messi lì quasi per buttarli lì perché il personaggio doveva svolgere quelle azioni per poi arrivare a quel punto. Quindi questo trucchetto, tra virgolette, è utile magari all'interno di una parte del romanzo ma reiterarlo per tutto il romanzo fa sì che il lettore si stanchi. Io questo ho provato, io appunto parlo per esperienza personale, poi magari qualcuno l'avrà letto, gli sarà piaciuto da matti e quindi va bene così, nel senso che io parlo secondo quello che ho percepito. Nella scienza dello storytelling, infatti, la curiosità, aspettate perché ho preso degli appunti perché se no altrimenti ce ne stavano miliardi, che è proprio a pagina 8 del manuale, dice proprio come la curiosità faccia leva appunto sul nostro cervello. E che cos'è che dice? Dice la curiosità ha un andamento che ricorda una n minuscola, è al livello più basso quando non si ha la minima idea di come rispondere a una domanda oppure quando si è assolutamente certi di conoscere già la risposta. Eccolo il punto. Cioè la curiosità viene innescata nel lettore o comunque in qualsiasi persona che sta ascoltando una storia e può ascoltare un podcast, può vedere un film, può appunto una pista teatrale, un musical, qualsiasi cosa, una storia che viene raccontata. La curiosità, cioè il fatto di avere quella voglia, quella sete di continuare a sentire quella storia che dovrebbe essere la parte principale di chi scrive, perché vuole appunto che il suo romanzo, la sua storia sia letta, non che il lettore abbandoni quella storia perché stanco, stufo e non curioso. Appunto il livello più basso della curiosità è quando si è assolutamente certi di conoscere già la risposta. Ecco il perché io ho capito, ho trovato stancante il dover leggere quei capitoli che in realtà appunto già c'era la risposta pronta perché l'evento del personaggio X aveva già raccontato cos'era successo. Il fatto di sapere che quel personaggio non lo sapeva, il lettore lo sa, quindi va bene per la prima parte. La seconda parte porta ovviamente ad annoiarsi, ad annoiarsi completamente. E questo mi fa capire ancora di più appunto che non è perché sei uno scrittore famoso, non è perché vendi milioni di copie di libri, sei uno che sa scrivere. O meglio, non tutti i romanzi ti riescono col buco perché appunto intervengono magari sperimentazioni perché magari Stephen King ha voluto sperimentare questo tipo di scrittura perché è portato da questa cosa, anche se appunto nel suo manuale non dice questo, dice che era ubriaco. Quindi andiamolo a vedere perché questo era a pagina 90 di Home Writing. Eccolo qua. Praticamente dice spudoratamente di non ricordarsi di aver scritto questo romanzo. Il che comunque gli va dato merito perché con tutto che stava ubriaco e non diciamo a piombo è riuscito a fare un romanzo e a toccare corde che comunque hanno fatto sì che questo libro vendesse milioni di copie perché comunque le ha vendute, però ecco se si va un po' più nel dettaglio si capiscono questi meccanismi. Poi lui è bravo ovviamente a lasciare in sospeso nei capitoli come si usa a fare anche nei thriller, nei gialli, quindi comunque la regola quasi base è quella di ogni capitolo lasciare sospeso il fatto dell'informazione, quindi la mancanza, il vuoto di informazione che poi spinge il lettore a voler leggere e a capire, a sapere che cosa succede. Ripeto, questa è una cosa normale che viene fatta e deve essere fatta in quasi tutti i romanzi perché comunque altrimenti il lettore ovviamente se gli spiattelli tutto davanti agli occhi, ripeto, si annoia, cosa che io ho provato. Quindi nelle pagine iniziali funziona avere questo cliffhanger, quindi questa cosa che ti lega dalla fine del capitolo a quello dopo, lo capirei se il punto di vista fosse sempre lo stesso. Il problema è che lì il punto di vista cambia continuamente, non è mai a fuoco, oltretutto è pieno di spiegoni inutili, cosa che King fa molto spesso nei suoi libri. In questo particolarmente è stato molto, diciamo, molto prolifico sul fatto degli spiegoni, cosa che lui abborra nel suo manuale, quindi anche lo scrivere un manuale non significa assolutamente che poi venga seguito quello che è. Sicuramente lui riesce a cogliere emozioni e sensazioni che il lettore sente, perché altrimenti non si spiegherebbe ovviamente il successo e il fatto che i suoi libri vendano tanto. È ovvio che sa scrivere. Diciamo che coglie cose diverse rispetto al fatto della struttura della storia, dell'arco di un personaggio e di compagnia cantante. Riesce a toccare corde diverse e quindi riesce comunque a farlo. Sul fatto del rimanere sospeso c'è proprio un effetto, che è l'effetto Zegernik, che è un effetto che una scienziata, era una donna Zegernik, ha constatato osservando dei camerieri in un ristorante. Praticamente che cosa succedeva? Lei è riuscita a capire, poi facendolo tramite sperimentazioni, che i camerieri si ricordavano di più le ordinazioni che rimanevano in sospeso rispetto a quelle che già erano state evase e che quindi ormai non avevano più senso da ricordare e che non ricordavano minimamente. Quindi che cosa succedeva? Il cervello era come se metteva, diciamo, da una parte e lanciava un allarme sulle cose lasciate in sospeso. Il cervello funziona così. Funziona che se tu lasci una cosa in sospeso, quello ti va sempre a rimbeccare sulla stessa cosa perché vuole completare quel compito, vuole completare quell'informazione e quindi questo può essere un ottimo modo per appunto sia scrivere che persuadere una persona. Hemingway, si dice che lui facesse proprio così in un'intervista, lui disse che proprio sul momento più bello, quindi nel momento in cui lui scriveva, lasciava la scena e quindi ciò che stava scrivendo sospesa, quindi sul più bello, senza che la finisse, perché così il giorno dopo diciamo il suo cervello, cosa che lui non diceva, però lui sentiva proprio il bisogno di dover completare quell'azione, di doverla fare. Ecco perché è molto importante capire questi meccanismi, perché possono essere utilizzati ovviamente in modo consapevole, per, in questo caso magari per la propria produttività, quindi fare una determinata cosa per poi sapere che il tuo cervello, funzionando in quel modo, i cervelli di tutti funzionano allo stesso modo, ti spinge a voler fare quella cosa. Allo stesso modo puoi utilizzarlo sulla tua scrittura, quindi nel fare appunto questa cosa, quindi lasciare in sospeso delle informazioni o cose del genere che poi più avanti ovviamente evidenzierai. ma non bisogna esagerare, in questo caso King in questo romanzo ha esagerato, ha esagerato, diciamo è stato proprio... ha voluto secondo me o sperimentare proprio questo tipo di scrittura o, come dice lui, era ubriaco e quindi non si è reso conto. Allora, poi altre cose che diciamo ho notato, un'altra cosa che fa, spesso nei dialoghi no, però in questo caso utilizzava un dialogo al telefono con due appunto persone che si parlavano e qui si vede proprio come non è in grado di gestire una telefonata scritta, quindi scrivendo una telefonata tra due personaggi, perché praticamente sia a pagina 311, adesso lo andiamo a prendere, che a pagina 304 una delle scene che appunto porta con il telefono lui ripete il nome, cioè quindi chi sta parlando ripete il nome di chi sta all'altro lato per evidenziare ovviamente, perché non puoi farlo tramite mosse, tramite, si chiamano bit, insomma, descrivere l'azione del personaggio che poi sta parlando, no, siccome lui non lo può fare, allora che ha fatto? In ogni pezzo di dialogo ha messo sempre il nome come se uno sta a telefonare e dice ah sì, senti Roberto, che per caso... un po' ti ripete, sì Roberto, ho capito che hai detto così, sì Roberto, cioè ripetere sempre il nome continuamente come se devi capire chi è che sta parlando e a chi lo sta dicendo. In questo caso, appunto, Charity, sei ancora lì? Ho detto che mi pare. Ah sì, ho sentito Bessi, probabilmente allora ha chiesto ad Alba di dare da mangiare al cane. Se vuoi glielo chiedo quando torno a casa, Charity, e poi te lo faccio sapere. Ah grazie, sei molto gentile Bessi. Cioè, in quattro praticamente frasi ha ripetuto il nome dei rispettivi che stavano parlando per far capire a chi si stavano rivolgendo, cosa che assolutamente non accade nella vita reale. Sì, ho capito che il romanzo non è la vita reale, che deve essere una fiction della vita reale, o comunque non deve essere spiccicata la realtà, però anche ripetere i nomi. Ma il problema non è che lo fa una volta, lo fa ben due volte. E lo fa anche più avanti, a pagina 354. E sta. Eccolo qua. No, rispose Alba. È qualche giorno che non vedo Joe. Sarà da Joe il discorso, Charity. Quando è venuto a portarmi la gomma del trattore riparata, non mi ha detto niente di Cuscio, anche se sarei stato contentissimo di badarci io. Alba, potresti fare una scappata a casa a dare un'occhiata a Cuscio? Brett l'ha visto lunedì mattina, prima che partissimo. bababababababababababababab. Senza da mangiare, molto gentile da parte tua, Alba, disse Charity, dandogli... Cioè praticamente, ripete, uguale per l'ennesima volta, sempre nello stesso dialogo, verso il personaggio, il suo nome, per far capire che è lui che sta parlando e ci si sta rivolgento a quel personaggio. Cosa veramente stucchevole. Appena letto, sono rimasto un po' un po' così basito. Per ribadire, per dare forza, diciamo, a questa cosa del cervello, Io a un certo punto mi sono sentito immerso nella scena, perché praticamente si parlava del cane, adesso non ricordo precisamente, eccolo qua. Allora, non mi ricordo se è proprio questo, però ci sono vari errori di edizione, nel senso che si vede praticamente sulla parte, eccola qua, ci sono delle righe tra le scritte che sembrano dei graffi, ok? Non c'è solo in questa pagina, ovviamente è una cosa di stampa che hanno sbagliato, però, neanche la tosse, scusate, però praticamente che succede? Ho la gula secca, ecco perché anche all'altro video ho tossito, mi scordo sempre di portare acqua, vabbè. Praticamente che è successo? Io leggendo, mentre leggevo, in questo caso qui c'è scritto il morso del cane, ma io ricordo che c'era un'altra pagina in cui lui diceva graffio. Mentre io leggevo graffio, quindi il mio cervello ha acquisito la parola graffio, e ho visto questo, quindi ho visto questi tratti così, che sembrano appunto graffi, ho avuto come un balzo, una botta, perché proprio il cervello si è immerso, e quindi l'informazione che ha ricevuto era quella visiva di un graffio, vedendolo sulla pagina, cioè ho provato terrore, ho provato terrore. Questo per dire che l'immergersi in una storia, veramente va, cioè bisogna evocare, no? Evocare, quindi in questo caso proprio, vabbè, evocando con una sola parola, quindi graffio, e vedendolo fisicamente è come se il cane stava lì e ha graffiato la pagina, quindi mi ha dato un senso di terrore, di orrore, veramente. Quindi c'è il modo, c'è il modo di creare questi effetti, ovviamente, non con l'errore di stampa, però per dire che i trucchetti che esistono sono tanti, il modo di persuadere, di evocare delle scene e quant'altro. In questo libro, secondo me, Stephen King ha toppato, ha toppato completamente, ripeto, buona l'idea originale, in quanto appunto non esiste un romanzo con questa idea, insomma, era il primo che faceva, e quindi sufficiente sicuramente per l'idea, ma è sufficiente per come è scritto. La prima parte anche salvabile, il resto secondo me è da rivedere. Quindi, siamo arrivati alla fine, se sei interessato ad altri video su questo canale, ti invito a seguirli perché, appunto, ne sto cercando di produrre altri e molti. Ho finito il mio primo romanzo, come ho detto già, in altri video, e sto cercando il modo di pubblicarlo, probabilmente di autopubblicarlo, è per questo che sto anche producendo questi video, per crearmi un pubblico, quindi se tu sei interessato a questo tipo di argomenti, ti invito a iscriverti, a mandare in giro il video, a mettere mi piace, così l'algoritmo di YouTube ci ringrazia a tutti quanti. Ho la pagina Instagram, la pagina Facebook, visita il mio sito, leggi tanto, scrivi tanto, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!